Le indagini sulla vicenda Mose sono tuttora in corso, in particolare con rogatori internazionali volte a rintracciare il denaro dato in dotazione per agevolare l'attività del Consorzio Venezia Nuova, all'epoca dei fatti retto da Giovanni Mazzacurati. Lo ha detto il procuratore aggiunto Carlo Nordio in tribunale a Venezia a margine dell'avvio del processo con la discussione sulle questioni preliminari e con gli otto imputati assenti per la vicenda che vede tra questi l'ex ministro Altero Matteoli accusato di corruzione e l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni accusato di finanziamento illecito dei partiti. A 24 anni da Tangentopoli a rilevato Nordio non è cambiato nulla. Per la vicenda Mose ha proseguito, oggi non è l'inizio della fine, ha sottolineato, ma la fine dell'inizio. È una situazione, se vogliamo, residuale dopo che la gran parte degli indagati hanno patteggiato, ma la sostanza e il valore dell'inchiesta, visti i ruoli di molte persone che vi sono entrate, non cambia. Gli indagati in tutto 35 hanno sì in gran parte patteggiato, ma per Nordio la situazione di compromesso dettata da questo aspetto processuale hanno portato al recupero di denaro a favore dello Stato.